Dare un incarico professionale a una persona senza che tu l'abbia mai visto e né mai lo incontrerai, secondo voi è possibile? Dare un incarico professionale a una persona senza che tu l'abbia mai visto e né mai lo incontrerai, secondo voi è possibile? È fattibile? In teoria sì, perché paradossalmente l'ho fatto io e non avevo proprio idea che un giorno, non avrei mai pensato che un giorno potessi dare l'incarico, l'incarico professionale a una persona che io né ho mai visto e né mai incontrerò, si trova dall'altra parte del mondo ed è un qualcosa che mi ha messo a pensare, dico perché? Perché in realtà in fondo io appartengo alla vecchia scuola, quella dei consulenti che sono abituati al giorno in cui devono incontrare un nuovo cliente per prendere un incarico di essere impeccabili. La nostra filosofia era andare come il giorno che ti devi sposare, no? Quando ti sposi sei impeccabile, sotto il profilo ti prepari, ti improvumi, perfetto sotto tutti i punti di vista. E così hanno insegnato noi, e intendo noi quando facevo corsi di PNL, per chi non lo sa la programmazione neurolinguistica, lo facevamo negli anni 2007-2008, eravamo, siamo stati insegnati ad operare così, quindi ad stare sempre in maniera impeccabile. Io ho dovuto dare un incarico a una persona che, vi ripeto, non ho visto, anzi vi lascio qui in descrizione il sito dove potrete trovare questi freelance, sono in realtà dei freelance, che affidati dai più svariati incarichi e vi posso dire che mi hanno dato, siccome ho ricevuto già le bozze di questo incarico, danno un lavoro eccezionale a un costo bassissimo ed è impensabile perché io non avrei mai, non sarei mai riuscito a realizzare lo stesso lavoro di qualità a quel prezzo, quindi sono veramente contento di questo, questo è il nuovo mondo, anche se poi io diciamo non dovrei esserne tanto, come posso dire, tanto, anche perché poi non è che ne dovrei essere tanto esterefatto da questa cosa perché in realtà anche io lavoro molto con le videoconferenze, immaginate che ogni giorno noi facciamo consulenze a persone che stanno a Catania, a Torino, quindi in due posti completamente opposti e questo lo possiamo fare grazie solo a questo nuovo metodo di comunicazione, di lavoro e vi ripeto, per me è impensabile perché quello che volevo condividere con tutti voi è questo, un buon consulente noi almeno dovevamo essere nel one to one preparati, perfetti è un qualcosa che non è da tutti essere pronti a one to one nel momento in cui tu vai a one to one devi sapere che se ti fa il cliente che devi acquisire e ti fa una domanda e te non sai rispondere, lui non nota, lo capisce da come gesticoli, da sessuti, da tante cose comunque se vai in difficoltà, invece da dietro a un computer tutto questo non si può e quindi noi veramente secondo me andrà a diminuire, non lo so se questa è una cosa positiva o negativa ma può andare a diminuire la qualità del consulente che ti affidi vi ripeto, a me più che altro era un video veloce, breve, semplice appunto per condividere con voi questo che sta accadendo, questo nuovo modo di lavorare che vi ripeto, per me è difficile da prendere anche se io poi ho un canale youtube pensate che i cassetti che avete visto all'inizio del video sono quelle poche cose che io ho dovuto portare a casa dall'ufficio proprio per fare in modo in questo mese di agosto di poter stare libero che quando volevo e potevo, potevo girare qualcosa per il canale youtube quindi in realtà io, anche io, sono molto social sono molto a favore di questo nuovo metodo di lavoro, di comunicazione di lavoro e di comunicazione però non è semplice accettare il fatto che paghi a una persona che non hai visto né mai incontrerai e non sai, cioè quello in quel momento può darsi che stavo con il suo portatile bello seduto in piscina a incassare soldi come me avrà altri centro clienti non si muove da casa sua e lavora questo è un nuovo modo di vivere, di lavorare cioè c'è un mondo alla fine vedete c'è tanto da fare oggi non è vero che c'è crisi oggi le opportunità sono tantissime nel mondo del business ogni giorno nascono delle nuove modalità di nuovo muro, del nuovo business la differenza è sempre come su di te la fai te come la fai? che estremamente usi pure io io nel mio lavoro potevo continuamente tranquillamente continuare a fare il consulente tranquillo base, quello che tutti conoscono mi facevi i miei 6-7 appuntamenti al giorno mi distruggevo di appuntamenti però comunque riuscivo a fare il mio fatturato invece abbiamo investito in dei progetti in quella che è questo nuovo modo di comunicare e quindi impariamo e vediamo sempre cose nuove e interessanti alla fine non voglio rubarvi tanto perché era solo esprimere un concetto che a me mi ha messo a pensare per qualche oretta intensa nel dire vedi un po' io ho dato un incarico ho dato i soldi a uno che non ha mai visto e ne mai incontrato e ne mai incontrerò però io quando dovevo prendere l'incarico da un cliente mi dovevo preparare come il giorno che mi dovevo sposare cercavo di essere sempre impeccabile e di stare sul pezzo vabbè quindi non so voi nei commenti se volete mi lasciate la vostra opinione su questo metodo di lavoro se anche voi avete mai soffritto dei freelance in descrizione vi lascio il link se volete gli datemi un sguardo e come sempre augurare buona vita a tutti quanti a sempre essere immobiliari e sempre di festa del debitore esecutato ciao